Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ogni giorno ce lo conferma, nell'accoglienza a persone che provengono da diversi luoghi del pianeta, per cui le migrazioni, da fenomeno costante della storia dell'umanità, ha assunto in questa fase della storia una dimensione planetaria, come mai prima d'ora. Il mondo così com'è organizzato non potrà continuare a vivere, come descrive e denuncia in modo così lucido, articolato Papa Francesco nell'enciclica davvero straordinaria, laudato sì. Quale mondo, quale umanità nel futuro, a partire da questo presente, quali politiche, istituzioni, legislazioni per contribuire a un futuro umano, dove ingiustizie, morti, violenze, oppressioni, armi, guerre, distruzione dell'ambiente vitale, possano essere progressivamente ma decisamente superate. E come pensare a una politica, a istituzioni e legislazioni che si liberino dal condizionamento brutale della finanza? Come ripristinare, a cominciare dal nostro Paese, come ripristinare onestà rispetto alla corruzione, giustizia e legalità rispetto all'illegalità e organizzazioni criminali con la connivenza stessa della politica? E come porre attenzione a partire sempre dalle persone deboli, che faticano a vivere, che sono poste ai margini? Personalmente sento che il dibattito sulle riforme, sul referendum, nel prossimo autunno, sulla legge elettorale, dovrebbe essere inserito in questo contesto più ampio, che riguarda la vita delle persone, delle comunità, di un Paese collocato nella storia, in modo ormai inscindibile con gli altri Paesi dell'Europa e del mondo. La questione di fondo, per come personalmente sento, prima di entrare nelle doverose articolazioni che riguardano anche il referendum, la vita, la storia nel rapporto fra comunità locali e comunità planetarie è questa. Queste riforme istituzionali, in quanto favoriscono o sfavoriscono, diminuiscono la qualità della vita, delle relazioni, dell'istruzione, del lavoro, di possibilità di partecipazione, di espressione delle persone, il sentirsi parte di un processo storico, come si sono pienamente sentiti parte i padri costituenti, o invece come essere considerati ai margini, insignificanti, relegati, favoriscono queste riforme come, o sfavoriscono nettamente, la giustizia e la legalità, inscindibilmente connesse, e l'istruzione e il lavoro, come accennavo. Garantiscono la dignità e i diritti di ogni persona, dagli alunni che hanno cominciato la scuola in questi giorni ai carcerati, che affollano le carceri, per fare due esempi estremi. E poi poco o per nulla rappresentati dopo queste riforme, poco o nulla o quanto rappresentati da coloro che dovrebbero rappresentare non una forza politica, anche se la mancanza delle forze politiche è un tema di gravità particolare su cui riflettere. Non uno schieramento, ma il bene comune di tutti, con la passione per la giustizia, la verità, i diritti umani, che sono uguali per tutti. Mi accingo ad ascoltare il professor Pasquino, come già accennavo, per apprendere, per imparare, cosa sta succedendo, cosa succederà, se preverà un voto piuttosto che l'altro, ma soprattutto con questa attenzione che pone decisioni fondamentali, quelle cioè sul progetto dell'umanità e sulla qualità della vita. E mi chiedo quale sia oggi il sentire profondo, quali siano le convinzioni diffuse di questo Paese, riguardo alle questioni di fondo prima accennate, qual è il sentire qui in Friuli e nelle altre parti d'Italia, certo riguardo al referendum, ma prima ancora riguardo al vivere insieme rispetto a un futuro, a un progetto di umanità, questa è la domanda di fondo che io mi sento di proporre. Buonasera a tutti voi. Ritengo opportuno cominciare questo incontro col professor Gianfranco Pasquino leggendovi proprio le due frasi che appaiono in ultima di copertina del libro Cittadini senza scettro che dà il titolo a questa serata. Eccola. Fare riforme sbagliate che squilibrano le istituzioni e tolgono potere ai cittadini peggiora la democrazia italiana. Peggiora anche la vita di tutti, soprattutto di coloro che si vedono chiudere le opportunità di partecipare e di influenzare le decisioni. Sono concetti estremamente chiari che si applicano alla perfezione a quello di cui parleremo questa sera, e cioè alla riforma costituzionale alla quale il professor Pasquino si è dichiarato sempre formemente contrario per una serie di motivi che lui stesso vi illustrerà più avanti. Quello che mi sembra importante dire in premessa è che questa sera parleremo pochissimo di politica. O meglio, ne parleremo soltanto incidentalmente perché quello che soprattutto ci interessa non è il futuro politico di Renzi, ma è il destino della nostra Costituzione. E quindi quello democratico nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti e dei loro coetanei. Dico incidentalmente perché non si può non confutare, o almeno cercare di farlo, le frasi dette dal Presidente del Consiglio pro Tempole che anche a Catania ha voluto far passare un messaggio che vuol far credere che il referendum sarà, ha detto, un bivio per chi dice sì e che vuole cambiare, e chi dice no e vuole rimanere nella palude. Attaccando poi, ripeto sempre le parole sue, quelli che contestano e spaccano tutto, e che sempre secondo lui sono quelli che non hanno in testa il futuro dell'Italia. Ebbene, il Professor Pasquino, come del resto il Centro Balducci, il Comitato Friuli, Democrazia Costituzionale, il Gruppo Democraticamente, credo tutti voi, moltissima gente, il futuro dell'Italia ce l'hanno ben fisso in testa. E ribadiscono che contestare le scelte politiche di Renzi non vuol dire assolutamente né contestare né spaccare tutto, ma semplicemente opporsi alla sottrazione di democrazia, al rischio di derivi autoritarie e al concetto di infallibile uomo della provvidenza che Renzi vuol far attribuire a se stesso e che la storia, ancora prima della stessa cronaca che lo riguarda, ha dimostrato essere foriero di disgrazie ben più che di benefici e di progressi. E il Professor Pasquino, tra i massimi esperti di scienza politica a livello internazionale, ho tolto via il considerato, perché mi pareva... Il considerato è scritto considerato tra, ho detto no, tra, senza considerato. E da sempre osservatore, vado avanti così sul corso, acuto, lucido e brillante, dello Stato, della democrazia e delle istituzioni su cui dovrebbe poggiare questa democrazia nel nostro Paese, è tanto lontano dall'identikit del contestatore sterile che si è messo al lavoro con Andrea Pertici, Maurizio Viroli e Roberto Zaccaria per proporre alcune modifiche sostanziali alla Costituzione, senza però cambiarla come vorrebbe il referendum di novembre. e volendo dimostrare a tutti, appunto, che non è vero che il fronte del no si limita a rifiutare e non a proporre e che una volta affossata questa riforma sbagliata sarebbe possibile modificare la Costituzione in quei punti in cui si è dimostrata che è migliorabile. Mentre se venisse approvata questa cattiva riforma si creerebbero molti problemi nel nostro ordinamento ci potrebbero valere davvero altri vent'anni per abrogare queste norme sbagliate e confuse e per sostituirle con cose migliori. Quindi conviene evitare tutto questo e riprendere il cammino molto più semplice delle revisioni costituzionali, diciamo leggere, nel senso che di volta in volta vanno a toccare molto meno di una quarantina abbondante di articoli tutti insieme e soprattutto che, visto che devono stabilire regole valide per tutti, debba essere più condivise. Un ultimo appunto, prima di lasciare la parola al professor Pasquino per il primo dei suoi interventi. In questi giorni si sta parlando ad abundanziam di riforma dell'italicum, la legge elettorale sulla quale la Corte Costituzionale è chiamata a esprimersi probabilmente il 4 di ottobre, che la minoranza del PD indica come motivo per votare no a meno che non venga cambiata, che il Presidente Merito Napolitano, sul quale il dovuto rispetto istituzionale mi impone di non aggiungere altri aggettivi, dopo averla a lungo difesa oggi indica come legge da cambiare, che Matteo Renzi, dopo averla fatta approvare a colpi di fiducia a canguri e artifici procedurali vari e dopo averla definita una legge che tutta l'Europa ci invidia e che ci copierà, oggi dice di essere non solo disposto a cambiare ma addirittura desideroso di farlo, che noi del no abbiamo sempre indicato come pericolosissima perché crea un combinato disposto o dispotico, come aveva detto proprio da questo tavolo Nadia Orbinati, capace di aprire la strada a velleità antidemocratiche. Ebbene, vorrei che fosse chiaro che la scomparsa di una legge elettorale molto simile al famigerato Porcellum renderebbe ancora più assurda la riforma costituzionale Renzi-Boschi, perché la filosofia di questa riforma è sempre stata quella di spostare fortemente l'asse del potere dal Parlamento al Governo, ragionando sempre su riforma costituzionale contemporaneamente a riforma elettorale, per concedere al Governo una larga maggioranza al riparo da sorprese. Ebbene, se venisse a mancare questa maggioranza larga di un solo partito, il caos abbondantemente prevedibile si dilatterebbe a dismisura e la spaccatura verticale dell'Italia e l'allontanamento progressivo dei cittadini dalla politica renderebbe ancora più difficile quella stabilità che tutti dicono insostituibile, ma che pur apparentemente assente per decenni ha pur consentito l'Italia uscire dai disastri materiali, sociali e politici della guerra. Il fatto è che oggi per Renzi e soprattutto per i potentati economici il termine governabilità significa in primo luogo assenza di discussione democratica e significa anche nel decidere privilegiare quella fretta che sembra essere diventata molto più importante del bene comune dei cittadini. La parola al professor Pasquino. Grazie anzitutto dell'invito. Credo che sia sempre utile discutere di Costituzione sarebbe stato il caso che molti, devo dire di voi l'avessero anche studiata tempo fa che anche l'avessero studiata i parlamentari che ci fosse un test d'ingresso come le facoltà di medicina sulla conoscenza della Costituzione che la conoscenza della Costituzione venisse accompagnata dalla conoscenza della storia di questo Paese perché la Costituzione non è un documento giuridico è un documento storico-politico è il documento di un certo numero di uomini e poche donne che sono costretti a scrivere una Costituzione nel 1946 perché lo Statuto Albertino che peraltro era durato un periodo di tempo assolutamente inusitato era ovviamente non praticabile non essendoci più il re ed essendo diventata l'Italia a quel punto incline a costruire una democrazia ampia una democrazia di massa e quindi il documento va letto anche con riferimento alla storia e alla politica di quel Paese di quel momento di che cosa avevano in mente i costituenti che notoriamente non erano soltanto collegati a esigenze governative e immediate ma volevano dare le indicazioni le regole le procedure le istituzioni per un Paese che diventasse rimanesse democratico devo aggiungere perché ci sono riusciti perché è inutile che ci stracciamo le vesti troppo sul passato piglio come momento di svolta il 1990 quando l'Italia è la quinta potenza industriale del mondo sta effettuando una transizione complicata perché i due grandi partiti stanno in realtà iniziando la loro scomparsa e però l'Italia è rimasta un Paese democratico attraverso sfide anche molto complesse molto difficili il terrorismo e altre sfide alcune delle quali fra l'altro non hanno ancora vinte la criminalità organizzata però la Costituzione ha accompagnato tutto questo ha prodotto tutto sommato una situazione diciamo istituzionale molto efficace e che la dobbiamo credo fondamentalmente alle regole alle procedure alle costrizioni ai vincoli che la Costituzione ha posto all'attività delle forze politiche ho sentito che bisogna essere cauti con Napolitano non più di tanto perché se il Presidente Merito interviene pesantemente in un dibattito istituzionale io credo che noi abbiamo il diritto di interloquire con il Presidente Merito e quindi gli stiamo anche dicendo che facciamo attenzione a quello che dice gli stiamo comunicando che siamo interessati a quello che dice e magari che siamo critici e credo che in un Paese democratico pluralista la critica anche dei potenti forse devo dire addirittura soprattutto dei potenti è un segnale di una democrazia vivace che esiste e allora io ricordo Napolitano nel 2008 quando la Costituzione compiua 60 anni disse la Costituzione è una splendida sessantenne che ha un po' di rughe ha bisogno di qualche ritocco e quindi la prima domanda che vorrei fare a Napolitano è sapere come è cambiata la situazione dal 2008 al 2015 al 2016 se questa splendida sessantenne che nel frattempo sta per diventare una settantenne merita invece interventi di questo genere chirurgici più o meno approfonditi ma in realtà abbastanza slegati fra di loro e cioè se questo configura una modalità di estetica che produrrà qualcosa di meglio di meglio funzionante non soltanto per i cittadini ma in generale per la vita di quelli che vogliono vivere in questo Paese oppure se quel tipo di interventi che non sono praticamente chirurgici ma che vengono effettuati sul corpo vivo della Costituzione non produrranno delle cose che saranno tutto sommato controproducenti cercherò di essere di colpire i passaggi colpire di cogliere i passaggi che ci sono stati presentati in questi anni di un dibattito tutto sommato certo intenso ma spesso anche abbastanza confuso e quindi cercherò di ridurlo un po' all'ordine cioè perché le riforme e la motivazione dei sedicenti riformatori sedicenti vuol dire che si dicono che sono riformatori i sedicenti riformatori era perché c'erano stati 30 anni di immobilismo non avevate fatto niente nei 30 anni prima del fatidico febbraio del 2014 e allora smontiamo questa prima narrazione perché in questi in quegli ultimi 30 anni in questi ultimi 30 anni il Parlamento aveva tanto per cominciare approvato una legge elettorale che si chiama Mattarellum sotto la spinta referendaria anche questo da non dimenticare perché eravamo stati noi a spingere per una riforma elettorale il Parlamento poi la fa la riforma elettorale incidentalmente Napolitano è il presidente della Camera dei Deputati quando il Mattarellum viene approvato il Parlamento fa altre riforme subito dopo per esempio fa la riforma del titolo quinto nel 2001 poi il centrosiste improvvidamente chiede un referendum per farselo confermare e non lo doveva fare però lo tiene e ottiene anche la conferma il Parlamento nel 2005 fa una riforma di 56 articoli della Costituzione su 139 la riforma del centrodestra che mette un po' di tutto dentro e compiendo un errore clamoroso viene poi sconfitto da un referendum nel giugno del 2006 e quindi il Parlamento ha fatto almeno queste tre riforme insieme con la riforma costituzionale per lo suoni fa anche una riforma elettorale ha fatto queste riforme che mi paiono riforme importanti e non voglio discutere se non lo sbagliate perché se posso anche fare quella naturalizzazione sono travolte e quindi vuol dire che uno, due e non c'è due e non c'è tre il prossimo referendum travolge anche le riforme sbagliate di adesso ma soprattutto il Parlamento fa una riforma che riguarda l'elezione dei sindaci nel 1993 che cambiano la faccia del Paese perché fino a quel momento forse voi qui un meno che altrove ma fino a quel momento i sindaci venivano nominati dai consigli comunali era un oggetto di scambio tra i partiti per cui si scopriva che a Genova dove il Paese comunista aveva il 40% dei voti il suo candidato non poteva diventare sindaco perché si erano spartiti i sindaci da Roma e diventava sindaco il repubblicano che aveva ottenuto il 2% dei voti la riforma dei sindaci è una riforma molto importante la cito perché poi c'è anche la riforma adesso attualmente di intervento sul titolo quinto perché cambia la faccia politica del Paese in maniera significativa e perché è una ottima riforma e mi stupisce naturalmente che l'ex sindaco di Firenze questo se lo sia dimenticato e quella è una riforma che fa il Parlamento quindi il Parlamento non è stato fermo gli italiani non sono stati fermi fra l'altro quando nel 1993 avete votato per cambiare la legge elettorale avete anche abolito tre ministeri uno è stato fatto rivivere quello dell'agricoltura avete abolito il finanziamento pubblico dei partiti che naturalmente è ricomparso sotto varie modalità però siamo abbiamo un passato di riforme alcune buone che si mantengono e alcune pessime che sono state variamente manipolate secondo c'è dietro queste riforme qualcosa di pensato c'è una riflessione profonda su cosa deve essere la costituzione di un Paese come l'Italia cioè di una democrazia parlamentare oserei persino dire perché qualche volta qualche spinta ottimistica avanzato oppure siamo di fronte a una situazione episodica cioè queste riforme hanno un retroterra hanno un pensiero politico forte lo dirò con questa parola oppure sono invece occasionali ed episodiche e qui si va detto che sono episodiche che cosa succede? succede che dopo l'elezione del 2013 nel Senato non c'è una maggioranza alla Camera c'è è una maggioranza del PD gonfiata dal premio di maggioranza ma al Senato questa maggioranza non c'è e allora si dice bisogna cambiare il bicameralismo ma bisogna cambiare il bicameralismo o la legge elettorale perché con un'altra legge elettorale si poteva benissimo avere la stessa maggioranza che c'era al Senato questo vale per il centrosinistro in particolare perché quando vinceva l'elezione il centrodestra vincendole soprattutto nelle due grandi regioni non ha mai avuto problemi di una maggioranza anche al Senato e quindi non ce l'è naturalmente posto e quindi c'è questo episodio un episodio che peraltro non dice quasi nulla in realtà sul bicameralismo ma dice parecchio sulla legge elettorale e invece si decide di andare a toccare il bicameralismo e vedremo naturalmente poi perché anche su questo vale la pena soffermarsi sono riforme slegate c'è una riforma che riguarda il Senato c'è una riforma che riguarda il referendum c'è una riforma che riguarda il CNEL certamente un ente che può essere abolito e che doveva forse essere abolito parecchi anni fa e infine c'è una riforma i cui contorni sono difficili da definire che di nuovo riguarda il titolo quinto per essere precisi riguarda le regioni le province e i comuni ma come stiano insieme queste quattro riforme non è chiaro e anzi su questo è stato detto variamente ed è stupefacente che il governo non abbia rapidamente appreso l'elezione è stato detto che l'articolo 138 quella sui referendum costituzionali parla di leggi di revisione costituzionale al plurale il governo doveva fare quattro leggi diverse non mettere tutto questo in un pacchetto e obbligarsi a dire sì o no al pacchetto il governo doveva dire questa è la legge di riforma del senato questa è quella che riguarda il referendum questo riguarda il CNEL e questo riguarda il titolo quinto cioè quello che si chiama tecnicamente spacchettamento non l'hanno fatto sperando che il senato la riforma del senato porti con sé il sì anche alle altre riforme come vedremo invece non dovrebbe essere così ma comunque vale poi la pena di soffermarsi sulla riforma del senato sono riforme confuse all'interno di ciascuna di queste riforme ci sono degli elementi che non stanno bene insieme che sono stati appesi nel corso del dibattito che sono fra l'altro cambiati nel corso del dibattito i proponenti del sì dicono visto abbiamo imparato e quindi abbiamo cambiato qualcosa nel corso del dibattito la risposta è che avendo fatto male la prima stesura sono stati costretti a intervenire poi sulla stesura successiva fino a ottenere il voto e infine però questo lo devo argomentare bene quindi lo lascio da parte solo lo introduco e infine possono essere riforme controproducenti cioè invece di togliere le rughe alla Costituzione italiana possono in verità fare delle ferite infierire se posso dire così sulla Costituzione e che naturalmente non quello che vorremmo perché credo che dobbiamo pensare che abbiamo bisogno di una Costituzione almeno a livello qualitativo della Costituzione che abbiamo avuto e continuiamo ad avere fino adesso almeno fino alla non auspicabile vittoria del no fatemi tornare sul Senato cioè se dal via questo questo è Freud questo è Freud Freud è inesorabile il Senato dunque c'è un problema il Senato sarebbe responsabile della lentezza della legislazione italiana sarebbe responsabile degli inconvenienti cioè rende difficile al governo di governare il Senato è il capro espiatorio allora tanto per cominciare bisogna che anche qui ci diciamo alcune cose chiarissime cioè il bicameralismo italiano non è qualcosa che viene scelto casualmente dai Costituenti in Assemblea Costituenti ci sono diverse posizioni i comunisti entrano in Assemblea Costituente dicendo che vogliono il monocameralismo con una motivazione che è comprensibile e tutto sommato sarebbe anche efficace cioè la sovranità è unica e indivisibile non può essere divisa in due camere naturalmente la replica è semplice la sovranità sta nel Parlamento è solo che funzionalmente il Parlamento si divide in Senato e in Camera dei Deputati i democastiani replicano che c'è un problema di fondo che in situazioni che ancora non conosciamo perché fino ad allora il Senato italiano era il Senato del Regno ed era nominato dal Re in situazioni che non conosciamo in un Paese distrutto che deve costruire non soltanto le sue fondamenta diciamo fisiche ma anche le fondamenta democratiche è meglio avere un sistema bicamerale perché la legislazione in una Camera non importa quale quella che inizia può essere viziata dall'emergenza dalle passioni da qualche inconveniente di vario genere da un gruppo che riesce a convincere tutti gli altri e se c'è una seconda Camera la seconda Camera serve a raffreddare le passioni a riflettere meglio a produrre una legislazione fondamentalmente migliore e questo tutto sommato produce un passaggio Camera o Senato cominciano il secondo rivede la terza sostanzialmente approva questo è quello che è fondamentalmente avvenuto nel corso del tempo io non sono in grado e so questa non è solo una cosa come dire transitoria so che non è possibile dire che il Senato è stato un intralcio o un ostacolo so che qualche volta l'intralcio o l'ostacolo si trovava alla Camera dei Deputati primo per il numero perché 630 fanno molto più casino a un termine tecnico di 315 e il secondo perché lì si andava allo scontro politico perché spesso erano i segretari dei partiti alla Camera dei Deputati però tutto questo lo traduco subito in cifre se noi paragoniamo il bicameralismo italiano dal punto di vista della produzione delle leggi con i bicameralismi che io ritengo siano paragonabili con quello italiano cioè quelli importanti la Germania la Francia la Gran Bretagna e se volete anche gli Stati Uniti che però come sapete è una repuglia presidenziale quindi è in un'altra categoria il bicameralismo italiano ha storicamente prodotto più leggi degli altri bicameralismi che ho citato più leggi fra l'altro se qualcuno fosse qui a dire queste cose io di lì rumoreggerei perché vi direi questo non è un criterio di efficienza però attenzione perché molte leggi non vuol dire necessariamente essere efficienti e perché un Parlamento non è il luogo come dire principale al quale attribuiamo il potere di fare le leggi e come vedrete e su questo sono sicuro che non troverò il vostro consenso ma fin da Tacito Tacito scrisse come sapete Tacito era Tacitiano quindi molto secco plurime leges corruptissima Repubblica quando leggi sono molte la Repubblica è corrotta e noi lo sappiamo è esattamente così il Parlamento italiano ma non proprio il Parlamento ma il circuito governo-Parlamento ha prodotto un numero inusitato di leggine però il dato sicuro è che il Parlamento italiano produce più leggi degli altri Parlamenti quindi se è un problema quantitativo dobbiamo dire che la motivazione è sbagliata secondo ne produce tante ma è molto lento e dal momento che abbiamo finalmente un Presidente del Consiglio velocissimo è chiaro che deve essere veloce anche il Parlamento la verità non è questa il Parlamento italiano è leggermente più veloce degli altri Parlamenti cioè una legge di media importanza viene approvata dal Parlamento italiano in sette mesi e mezzo o poco più e negli altri Parlamenti è un pochino di più di otto mesi e anche qui naturalmente non possiamo pensare che gli altri Parlamenti siano Parlamenti di come dire gli oziosi fannulloni e così via no ci sono delle buone ragioni perché il Parlamento italiano sia più efficace dal punto di vista della velocità ad approvare le leggi come forse dovreste sapere il Parlamento non è il luogo dove si fanno le leggi il Parlamento fa altre cose e su una cosa specifica poi mi soffermerò le leggi le fa il Governo questo è il punto fondamentale nelle democrazie parlamentari le leggi le fa il Governo e vi annuncio anche che è giusto che sia così il Governo ha avuto un mandato dagli elettori deve tradurre il suo programma in politiche pubbliche e queste politiche pubbliche sono per l'appunto quelle che il Governo introduce nel Parlamento e sulle quali vuole il voto e lo tiene e quindi il Senato non è stato un ostacolo perché dal 15 marzo 2013 cioè da quando c'è il Governo eletto fino al 15 giugno 2016 il Parlamento italiano ha fatto 463 leggi a questo ritmo alla fine della legislatura ne avrà fatte quasi 900 che è la media che ha fatto sia nella legislatura precedente che in quella ancora precedente e così via e di queste 463 leggi quasi la metà sono in realtà decreti legge e vale a dire che sono decreti prodotti dal Governo e approvati dal Parlamento spesso come sapete approvati con il voto di fiducia e quindi che fa cadere tutti gli ammendamenti anche questo l'abbiamo visto ripetutamente io credo che qualche volta questo non sia corretto infatti ci sono state varie proteste la Corte Costituzionale ha intervenuto diverse volte e così via però quello che conta è che ci sono state comunque 463 leggi di queste 463 leggi l'81% sono leggi di iniziativa governativa vale a dire sono leggi con le quali il Governo cerca di tradurre il suo programma in decisioni in politiche pubbliche come si dice tecnicamente i parlamentari hanno avuto 38 leggi approvate cioè il 17% e poi ce ne sono alcuni che sono miste quando un parlamentare è davvero bravo invidia un problema suggerisce una soluzione e il Governo capisce che è importante e converge quindi le chiamo leggi miste tutto questo è molto importante perché di nuovo il Governo riesce ad avere quello che vuole e non può raccontarci invece che il Senato era il suo punto debole fra l'altro come molti di voi probabilmente sanno quando un Governo è forte e ha una maggioranza solida può ottenere le leggi senza neanche passare dall'aula come si dice ma in sede referente in sede deliberante sono le commissioni che decidono naturalmente bisogna essere convinti di quello che si fa dal punto di vista dell'Americo non c'è nessuna ragione per la quale bisogna fare a meno del Parlamento dopodiché naturalmente del Senato dopodiché naturalmente si dice no però bisogna risparmiare soldi 315 senatori costano un sacco di soldi e quindi cosa facciamo facciamo 100 senatori che però hanno già un'altra carica e cioè hanno una carica a livello locale sono consiglieri regionali e sono sindaci attenzione perché qui comincia la mia prima critica la composizione del Senato come è venuta fuori dalla riforma è pasticciata 74 esponenti delle regioni qui sono in grande difficoltà perché non è ancora chiaro se saranno loro consiglieri regionali oppure se saranno i consiglieri regionali che mandano qualcuno in questo Senato credo che la prima sia più vicina all'attuale quando io ho detto sono dei nominati il Presidente Napolitano mi ha detto non sono nominati sono disegnati io ho detto confesso di non capire la differenza ma poi l'abbiamo chiusa subito lì perché mi pareva un po' imbarazzante 21 sindaci e 74 più 21 fa 95 anche qui non so bene in che modo sono i 21 sindaci delle città capoluogo non lo so però spesso mi chiedo questi sindaci hanno così tanto tempo da dedicare all'attività poi senatoriale oppure se sono sindaci di città importanti hanno gate da pelare che non possono lasciare lì due giorni alla settimana per andare a Roma certo capisco che il sindaco di Roma a chi mi pare di capire non ha gate da pelare in questa fase ha molto tempo per prendere forse fare due passi dal capitolio del senato che sono letteralmente due passi questa composizione è pasticciata ma viene ancora più pasticciata incredibilmente perché ci sono cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica allora se voi chiamate questo Camera delle Regioni mi spiegate cosa c'entrano cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica l'articolo della costruzione sui senatori a vita dice chiaramente per meriti artistici scientifici letterari e sociali capisco che quando uno nomina un senatore a vita come Andreotti dice che aveva dei meriti letterari abbiamo già distrutto tutto il castello però non vedo i meriti federalisti nella Costituzione e mi chiedo se il Presidente Napolitano non poteva da subito dire non c'entra niente e sto aspettando che il Mattarella dica non c'entrano niente cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica Costoro dovrebbero occuparsi di alcune cose cioè hanno la competenza in alcune materie in altre materie deliberano insieme con la Camera dei Deputati qualche volta possono richiamare un disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati ma ci sono due cose che mi preoccupano e qui sono sulle funzioni funzioni confuse però questi consigli regionali notoriamente mi auguro che ci sia qualche consigliere regionale in sala che sono notoriamente la classe politica più screditata di questo Paese possiamo dirlo così perché li abbiamo visti alcuni di loro fra l'altro continuano a essere in attesa di processo questi consiglieri regionali si occuperanno della politica europea il Senato nuovo Camera delle Regioni sarà il luogo dove si fa la politica europea di questo Paese che a me pare qualcosa di molto importante qualcosa che richiede delle competenze specifiche e non la rappresentanza del territorio se fossi in mente direi di Brisighella che di solito è il Paese o di Zagarolo se fossimo in Lazio della rappresentanza del territorio si può anche occupare ma l'Europa mi fa una cosa più seria in più questo Senato di 100 senatori eleggerà due giudici costituzionali mentre la Camera dei Deputati che ha 630 rappresentanti eletti poi vedremo come eletti eleggerà tre giudici anche qui vedo uno straordinario escuribrio non potevamo fare di meglio meglio che niente è lo slogan dei riformatori allora no meglio niente punto però se doveva esserci qualche grazie suggerisco di tanto di tanto un applauso così bevo no si poteva fare di meglio perché si poteva guardare alla seconda Camera che in Europa funziona meglio alla seconda Camera che rappresenta davvero le regioni e questa seconda Camera che fra l'altro è anche più piccola e quindi costa meno e questa seconda Camera si chiama Bundesrat rappresenta i 16 lender ci sono 69 rappresentanti e quindi meno dei 100 italiani i quali però non sono disegnati in maniera così casuale ma sono i rappresentanti delle maggioranze di quei lender se i democraziani vincono in Baviera nominano 6 democristiani nel Bundesrat e quando i socialdemocratici e i verdi vincono a Berlino o a Hamburgo nominano loro i rappresentanti non attraverso uno scambio con le minoranze no perché debbono rappresentare la regione il land e quindi sono quelli che hanno vinto le elezioni in più le elezioni come vedete in continuazione si svolgono in maniera differenziata e quindi c'è anche un certo ricambio il Bundesrat è una potente seconda camera che rappresenta molto bene gli interessi dei lender e che ha una visione politica anche nazionale se volete perché quando si trovano devono tenere conto del fatto che la Germania è uno stato possiamo dire quanto meno semifederale bastava imitare perché no 69 quindi ci sono meno addirittura no perché gli italiani non sono abituati a vincere a perdere e quindi ci mettiamo d'accordo se in questa regione vince che so io il centro-destra darà però un rappresentante al centro-sinistra sapendo che poi magari in Emilia Romagna dove sono molto generosi daranno un rappresentante al centro-destra e così via naturalmente questo non migliora però la rappresentanza della camera delle regioni questo per il senato e per il bicameralismo però attenzione perché quando siamo in una democrazia parlamentare non bisogna separare le istituzioni in una democrazia parlamentare le istituzioni interagiscono in maniera significativa qualcuno ha persino detto che in una democrazia parlamentare è una situazione di fusione tra il Parlamento e il Governo il Parlamento dà vita al Governo e poi lo mantiene in vita attraverso la fiducia e il Governo di tanto e tanto può anche vedere se quella fiducia ce l'ha però è una situazione di fusione mentre nelle Repubbliche presidenziali è una situazione chiaramente di separazione il Presidente viene eletto dagli elettori qui non entriamo adesso che c'è un collegio elettorale se volete fare domande e i parlamentari sono eletti separatamente e quindi alla fine fanno quello che vogliono che incendialmente dovrebbe farvi capire vedere e spiegare che in realtà il Presidente degli Stati Uniti non è mai il più forte governante al mondo perché deve fare i conti con una Camera dei rappresentanti un Senato dei quali spesso non ha la maggioranza ma anche quando ha la maggioranza ci sono quei 7 8 10 12 senatori potentissimi che fanno quello che vogliono e se il Presidente vuole il loro voto deve procedere a qualcosa un ponte nel mio collegio elettorale una scuola far salire il prezzo del latte e così via quello che io chiamo un Presidente clientelare questa è una delle regioni per le quali Obama ha fatto poco perché non voleva essere un Presidente clientelare e quindi non andava allo scambio di queste risorse con i potenti e tetragoni senatori repubblicani secondo il referendum la gamma degli strumenti di partecipazione che lei giustamente sottolineava allora anche su questo sappiamo moltissimo naturalmente sappiamo tanto per cominciare che i Costituenti erano leggermente dubbiosi su questo e l'unico referendum che hanno previsto è quello abrogativo cioè c'è una legge i cittadini raccolgono le firme se la maggioranza di loro va a votare e vota per abrogare la legge la abroga questo ha funzionato fino ad un certo punto e il certo punto è quando le forze politiche e i partiti hanno incoraggiato gli elettori a non andare a votare non dimentichiamoci questo che c'è stata questa spinta a dire astenetevi per fare fallire il referendum il più potente come chiamarlo spingitore di recente è stato il cardinale Ruini come vi ricorderete anche lui spingeva l'astensione questo non mi pare mai buono vi comunico che questo secondo me ha qualche problema costituzionale l'articolo 48 dice che il voto è libero e così via il suo esercizio è un dovere civico e non credo che ci sia nessuno in grado di convincermi che se i Costituzioni hanno detto che il suo esercizio l'esercizio del voto è un dovere civico si può stare a casa per il referendum no non si può stare a casa e la logica è che noi vogliamo tutti sapere che i cittadini si esprimono e non che sono alcuni che si rannicchiano dietro l'astensione vorremmo che ci fosse l'espressione delle loro preferenze delle loro conoscenze dei loro interessi perché è così che funziona la politica cioè ci trasmettiamo delle informazioni quelli che non vanno a votare riducono il flusso di informazioni riducono le conoscenze a disposizione nostra dei cittadini che andiamo a votare ma anche a disposizione dei politici che devono prendere le decisioni qui il giochino è primo perché poi c'è la realtà e di tanto in tanto c'è la realtà per esempio mi dicono che voi italiani avete votato su un referendum sulle trivellazioni con il capo del governo che ha invitato all'astensione che è una roba pazzesca molto semplicemente pazzesca non solo ma questo capo del governo risparmioso ha anche deciso che il referendum si svolgeva ad aprile invece di farlo svolgere in concomitanza con le elezioni amministrative e avrebbe risparmiato non so quanti milioni di euro sì grazie adesso rispondono non ve lo faccio tutto rispondono alzando le cifre per chiedere un referendum le firme a 800.000 e dicendo però che scende il quorum chi raccoglie 800.000 firme vedrà il suo referendum approvato comunque valido nel momento in cui si valuterà la percentuale dei partecipanti con rispetto con riferimento alla percentuale di coloro che hanno votato alle elezioni precedenti quindi il quorum scende un po' non è più 50% abbiamo calcolato che foro probabilmente uscirà tra il 38 e il 40% se poi però voi siete cattivi andate a vedere cosa è successo agli ultimi quorum vedrete che è sempre stato al di sotto del 40% quindi ci sarà comunque una qualche difficoltà ma io mi soffermo solo su uno di questi referendum che è quello che discende che non discende per niente e riguarda l'iniziativa legislativa popolare bisogna che i cittadini abbiano una qualche influenza sulla legislazione e quindi invece di 50.000 firme su un progetto di legge redatto in articoli come dice la Costituzione iniziativa legislativa popolare ce ne chiederanno 150.000 ma a questo punto il Parlamento sarà obbligato a prenderlo in considerazione questo è potenzialmente una cosa buona dopodiché però l'obbligo a prendere la considerazione potrebbe anche essere che il Parlamento fa un paio di sedute e dice basta e finisce lì io ne ho visti di questi ne ho visti diverse di disegni di leggi di iniziativa legislativa popolare che venivano discorsi in pro forma sapendo che poi non avrebbero avuto nessun seguito qualcuno di tanto in tanto potrebbe anche chiedersi che fin hanno fatto i disegni di leggi di iniziativa popolare chiesti da Beppe Grillo appoggiati da 300.000 firme mai approvati dal Parlamento è una delle cose che dà inizio al Movimento 5 Stelle e anche questo forse è qualcosa di cui tenere conto la mia idea era che se il Parlamento a fronte di 150.000 firme decidi di non fare nulla di quel disegno di legge i proponenti dovrebbero avere la possibilità di trasformarlo in un referendum in un referendum vero cioè e questo è il passaggio cruciale perché così date ai cittadini il potere di incidere come si dice tecnicamente sull'agenda del governo sul sul CLEL non ho niente da dire il CLEL è un seguito in assemblea costituente nel quale i costituenti non si confrontano più di tanto l'idea che debbono rappresentare le categorie sociali c'è però è un lascito del fascismo la camera dei fasci e delle corporazioni si pensa che il CLEL possa diventare una specie di grandissimo ufficio studi ma con persone che si intendono industriali sindacalisti rappresentanti di categorie e così via il CLEL funziona poco e male quindi se va non è dove andare parecchio tempo fa incendialmente e un paio di volte ci è arrivato vicino poi attraverso la lobby di alcuni parlamentari è sopravvissuto vado sul quarto punto il punto relativo alle autonomie prima una ragazza mi ha fatto un'intervista mi ha detto ma noi l'autonomia la specialità della regione continuiamo a tenercela e io gli ho detto si ve la tenete ma non va bene dovreste perderla perché se andiamo ad un riordino complessivo dovremmo porre cosa che naturalmente non c'è nel disegno di legge costituzionale dovremmo porre il problema che parecchi oramai si sono posti sui quali ci sono degli studi cioè le regioni italiane sono davvero in grado di garantire governo ai loro cittadini e la risposta è che no e lo sappiamo sono in realtà finanziate sussidiate dallo Stato nazionale e qualche regione per di più ci mette molti più soldi di quelle che riceve in cambio non sono qui per fare l'elogio della Lombardia e forse neanche l'elogio del Veneto però la Lombardia e il Veneto pagano un po' di più di quello che dicevano la Lombardia parecchio di più di quelle che dicevano dal governo però il fatto è che ci sono parecchie regioni che da sole con i loro soldi e con qualche trasferimento dello Stato non sarebbero in grado di autogovernarsi forse era il caso di pensare all'accorpamento di queste regioni cioè di creare delle unità che fossero in grado davvero di garantire il governo ai loro cittadini vogliamo delle regioni forti in Europa devono essere forti in partenza altrimenti in Europa vengono travolte da altre regioni in Europa forse ci possono stare tra le regioni la Lombardia il Veneto l'Emilia Romagna le altre hanno tutti dei grossissimi problemi non c'è nulla di tutto questo in questo disegno il punto fondamentale intorno al quale ruota la riforma del titolo quinto è di dare maggiore potere allo Stato cioè la supremazia statale la clausa di supremazia statale e qui naturalmente potremmo anche dire che va bene così ovviamente perché ci siamo fatti forse anche voi in imbottire la testa dalle pretese federaliste della Lega che non avevano nessun fondamento e la sinistra si è accodata a queste pretese e ha fatto per l'appunto la riforma del 2001 però questo non è un paese di federalisti lo sappiamo questo è un paese credo anche e spero così anche di voi nel quale noi ci identifichiamo con i comuni quando ci chiedono da dove vieni non rispondiamo dal Friuli vengo da Bologna vengo da Udine vengo da Venezia e così via lì bisognava andare ad operare cioè dare forte potere ai comuni perché i comuni e i sindaci sono molto più vicini ai loro cittadini e sono loro sì in grado di instaurare una spirale di buon governo credo qui che ci saranno diversi poi conflitti e che è l'aspetto su quale stavo per arrivare cioè il controproducente il senato avrà dei conflitti con la camera dei deputati di sicuro le regioni che hanno nominato i loro senatori avranno dei conflitti con i senatori se questi non si comportano come chi li ha nominati vorrebbe dopodiché il senato farà tutta una serie di operazioni chiedendo naturalmente di avere un ruolo specifico mentre così come è scritto il ruolo è abbastanza limitato quindi apriamo una fase di conflitti lo stesso naturalmente succede a livello dell'autonomia poiché non è chiaro ancora quanto forte sarà questa clausa di supremazia statale è probabile che gli enti locali resisteranno alle precedenti del governo di dettare alcune politiche in materia ambientale per esempio in materia di acqua che ricordate i beni pubblici e così via e quindi anche qui si apre un problema non marginale che tutto questo rischia di invece di semplificare e velocizzare rischia di rallentare e complessificare il funzionamento del sistema ma era qui il problema perché adesso ce lo siamo persi il problema è sentivo dire che bisogna che quando il capo del governo italiano va in Europa sia rispettato perché in realtà ha dietro di sé un forte consenso ma c'è qualcosa che tocca il governo qui qui non c'è quasi nulla che tocca il governo però giustamente qualcosa che tocca il governo è la legge elettorale e loro dicono no sono due cose diverse e come sarebbe sono due cose diverse nel momento in cui discutiamo di rappresentanza politica perché di questo discutiamo quando parliamo del Senato che discutiamo del potere dei cittadini quando parliamo di referendum è chiaro che dobbiamo parlare anche della legge elettorale non possiamo farne a meno sono collegate sono collegate ma no nella maniera balorda in cui le pongono a minoranze del PD cioè se ci date un'altra legge elettorale noi voteremo per la legge costituzionale no non è così questo è uno scambio improprio è anche uno scambio brutto volevate farlo dovevate combattere la battaglia in Parlamento quando era ora la riforma costituzionale va rispinta perché è brutta e confusa la legge elettorale va rispinta per altre ragioni ma no se ne salviamo una salviamo anche l'altra non è così non è così fra l'altro perché hanno riaperto tutto il dibattito perché si sono accorti che c'è qualcosa che non funziona e adesso arrivo su quello che non funziona però la mia premessa è questa se tutto il discorso è sul governo allora bisognava andare a vedere i meccanismi che rafforzano il governo cioè ci sono governi forti stabili sembra che la parola chiara sia stabili se dicono governabilità mi confondo però faccio anche il narcisista se volete sapere che cos'è governabilità secondo Pasquino nel dizionario di politica c'è la voce governabilità che non è mai soltanto potere del governo governabilità è certo stabilità ma è efficacia decisionale e l'efficacia decisionale non è solo potere è capacità di mettere insieme una pluralità di interessi per dei fini collettivi e quindi è una cosa un pochino più complessa e come dire più densa di elementi di quello che ci stanno raccontando però il punto fondamentale credo oggi qui e qui e forse ieri e probabilmente domani prima lei mi chiedeva di fare delle previsioni nel migliore dei casi sono un politologo però di tanto in tanto posso anche provare a fare l'astrologo e allora farò qualche piccola previsione quali sono i governi stabili e efficaci in Europa perché ce ne sono cioè io credo che non possiamo fare a meno e faremo molto male se non riflettessimo su questo a pensare che la Germania è diventata grande grazie soprattutto ai suoi meccanismi istituzionali parlamentari e governativi perché la crescita economica è stata costruita anche intorno a uomini e adesso a una donna in grado di dare coesione al sistema perché sono lì da un po' di tempo e sono capaci di indicare strade credibilmente dico che faccio queste riforme non avranno effetto in due anni in tre anni ma voi sapete che io vinco e rivinco le elezioni in più che ho una maggioranza coesa alle mie spalle e manterrò quello che vi ho promesso cioè sono un governante credibile a scuola probabilmente avrete sentito che di solito quando lodiamo un paese lottiamo la Gran Bretagna il regno che una volta avremmo chiamato unito adesso abbiamo qualche problema ma che lodiamo quel paese lì è la patria la madre di tutte le democrazie parlamentari è il luogo dove noi ci aspettiamo i primi ministri stabili forti in effetti il primo ministro inglese è il più forte governante al mondo perché ha una maggioranza parlamentare e rimane in carica soltanto fino a che ce l'ha però quando ce l'ha in realtà è come disse a suo tempo Max Weber il dittatore del campo di battaglia parlamentare e invece no ci sono stati meno cancellieri tedeschi dal 1949 e oggi di quanti siano stati i primi ministri inglesi e questa è una straordinaria sorpresa per gli stessi tedeschi che quando pensano alla tragedia di Weimar sanno che il problema era proprio che i cancellieri erano debolissimi perché non erano stabili e infatti quando il costituente ha dovuto scrivere l'articolo sul governo e sul cancelliere hanno prodotto un'innovazione brillantissima che si chiama voto di sfiducia costruttivo il cancelliere entra in carica se la maggioranza assoluta dei componenti del Bundestag lo vota il cancelliere rimane in carica a meno che la maggioranza assoluta del Bundestag gli voti contro ma questo non basta e entro 48 ore deve votare per un nuovo cancelliere questa operazione che è stata fatta una sola volta con successo ha però un elemento di deterrenza vuoi fare la crisi di governo provaci però il punto è che devi già avere un cancelliere di ricambio e devi avere una maggioranza che appoggerà il cancelliere e quindi non ci sarà mai quello che noi abbiamo invece avuto diverse volte la crisi al buio qui sappiamo tutti che è partito un meccanismo che alla fine produce un nuovo cancelliere che avrà una maggioranza stabile i tedeschi hanno avuto questa grande intuizione l'altra è il sistema elettorale su cui non entro tranne che poi facciate domande questo è stato così importante ed ha funzionato così bene che quando gli spagnoli sono tornati alla democrazia o forse hanno creato per la prima volta una democrazia nel 1977 gli esoli spagnoli come sapete erano un po' in giro per l'Europa parecchi erano esoli in Germania molti erano esoli in Francia alcuni in Belgio ma parecchi erano anche stati in Italia e quindi si sono chiesti come costruire una loro costituzione avevano un problema era risolto perché avevano il re e quindi non dovevano occuparsi del presidente della repubblica ma gli altri problemi c'erano tutti e hanno deciso che la parte relativa ai diritti della costituzione italiana andava benissimo e l'hanno presa facendo pochissimi cambiamenti naturalmente hanno dovuto rivedere la parte relativa alle autonomie perché hanno dei problemi con i baschi i catalani i galiziani e così via ma quando sono arrivati al governo concordemente tutti hanno detto no non possiamo prendere la situazione italiana dobbiamo prendere quella tedesca la Spagna ha il voto di sfiducia costruttivo adesso dimenticate quello che sta succedendo in questo momento ma la Spagna ha avuto pochissimi capi di governo Gonzales 82 96 Asnar 96 2004 Sapatero 2004 2011 Rajoy fino ad adesso e non appena si decideranno a fare una coalizione probabilmente anche per i prossimi anni quindi c'è un meccanismo di stabilizzazione dei governi che automaticamente crea l'opportunità dell'efficacia domanda a Renzi non me l'hanno lasciato fare come se non me l'hanno lasciato fare l'hai fatto l'hai introdotto in Parlamento lo abbiamo visto in un qualche disegno di legge no perché perché non di lì vuole avere il potere ma lo vuole avere attraverso la legge elettorale che dire della legge che dire della legge elettorale la mia la mia la mia affermazione è semplice l'italico non dovrebbe chiamarsi così dovrebbe chiamarsi porcellinum l'italico perché il porcellum aveva tutti i parlamentari nominati l'italico non ha tutti i parlamentari alla fine della ballata solo 60% degli eletti saranno stati nominati e non saranno passati attraverso il voto degli elettori 60% a me però non pare poco nel porcellum un candidato poteva essere presente in tutti i collegi nell'italico soltanto in 10 ma anche qui siamo soltanto a una piccola riduzione c'era una clausa di sbarramento nel porcellum che era il 2% qui siamo assoliti al 3% che è ridicolo la Svezia che ha 16-18 milioni di elettori ha una clausa di sbarramento al 4% e la Germania ha un altro elemento molto importante c'era il 5% noi l'abbiamo al 3% e qual è la spiegazione del 3% se qualcuno di loro qualche volta dicesse la verità però non so se esiste la verità ma se qualcuno ci provasse vi direbbe che il 3% è quello che Angelino era disposto ad accettare e Angelino è ancora e Angelino è ancora lì in bilico perché quel 3% mi pare un po' complicato potrebbe raggiungerlo chissà se si coalizzasse con Verdini vi do la notizia perché mi pare una notizia importante dovete sapere alcune cose e non potete andare a casa stasera senza sapere che Denis Verdini ha fatto il mio corso di teoria e politica dello sviluppo all'Università di Firenze ed è vero perché si ricorda ancora qual era l'argomento del corso e quindi se Denis Verdini è bravo lo deve anche a quel corso che fece all'Università di Firenze con me mi spiace però qualcosa ho avuto ha visto allora dopodiché c'è il ballottaggio questo è interessante perché Porcello non l'aveva Renzi all'inizio non lo voleva il ballottaggio poi ha detto ma mettiamo la clausola che se nessuno arriva al 37,5% andiamo al ballottaggio il 37,5% era stato scelto come dire quasi un abito su misura aveva appena tenuto il 40, qualcosa per cento nelle elezioni europee pensava che a quel livello ci sarebbe passato solo lui poi la storia il paese qualcuno di voi che si comporta letteralmente in maniera un po' scriteriata lo ha convinto che invece no che bisogna portare la soglia più in alto al 40% e qui avere il ballottaggio il ballottaggio è uno strumento importante ecco voglio dirlo perché sento che la minoranza che vi vuole togliere il ballottaggio il ballottaggio è l'unica cosa buona che sta in questa legge elettorale perché darà a voi la possibilità di scegliere chi va a governare molto semplicemente e quindi il ballottaggio deve essere mantenuto però deve essere accompagnato da qualcos'altro cioè della possibilità di fare apparentamenti dopo il primo turno esattamente come succede in maniera efficace nelle elezioni del sindaco il sindaco che passa al ballottaggio può dire sì o no a chi dice noi ci apparentiamo con te e questo potrà fare il candidato del partito che guida uno dei due schieramenti e dirà questi li accetto questi non li accetto ma le condizioni devono essere chiare per di più il ballottaggio è uno strumento di trasparenza perché vedremo che cosa trattano costoro vedremo che cosa si dicono che cosa si promettono e così via le coalizioni sono la forma normale di governo le democrazie parlamentari contemporanee perché solo noi non dovremmo avere coalizione ma dovremmo avere un partito che magari ha avuto il 28% al primo turno e che si trova con il 54% dei seggi perché il 26% è il premio di maggioranza no se volete riformare l'Italicum io l'ho detto l'ho scritto giocando su una famosa pubblicità toglietegli tutto ma non il ballottaggio se togliete il ballottaggio è un'altra roba su questo scontro frontale con Napolitano quello invece è il ballottaggio da togliere perché bisogna toglierlo perché al ballottaggio arriverà il Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle almeno fino a qualche settimana fa aveva vinto 19 dei 20 ballottaggi in occasione delle elezioni amministrative però immagino che gli italiani poi sono anche in grado di valutare che cosa proporranno se fossero loro ad arrivare al ballottaggio l'ultimo questa è una volta chiuduta perché il problema vero da un lato certamente è il potere del governo dall'altro però l'impressione che è qualcosa di diverso cioè quando noi ci lamentiamo della politica italiana e incidentalmente facciamo bene e incidentalmente non tutti quelli che si lamentano sono antipolitici cioè esiste una doverosa critica della politica ed esiste qualche volta anche un doveroso rifiuto delle pratiche della politica quando ci lamentiamo diciamo non mi sento rappresentato ecco nella riforma costituzionale non c'è nulla che migliora la rappresentanza politica degli italiani non c'è nulla nella legge elettorale che migliora la rappresentanza politica degli italiani se il paese deve migliorare allora bisogna che ci sia davvero una classe politica che viene letta in maniera diversa per esempio nei collegi nominali che viene chiamata a rispondere qui il mio mantra è semplice di quello che ha fatto di quello che non ha fatto e di quello che ha fatto male questo ricostruisce un tessuto di rappresentanza politica questo è quello che rende la politica inglese tutto sommato una buona politica il rapporto diretto tra gli eletti e gli elettori questo è quello che rende la politica francese nonostante i vari inconvenienti una buona politica di un collegio lì è un unionale ma a doppio turno metà dei parlamentari tedeschi sono eletti in collegio unionale se volete cambiare la legge elettorale guardate ai sistemi elettorali che funzionano e smettete di pensare che quando ho chiamato una cosa italica ma avete fatto una cosa buona quando siete a casa e dite ho fatto una cosa all'italiana dite che l'avete fatta bene o male grazie dopo questa dettagliata esposizione del perché no io passerei brevemente alle proposte fatte in alternativa di cui vi avevo accennato prima con Pertici Zaccaria e Dimenticato il quarto molto brevemente il professor Pasquino con gli altri tre ha proposto cinque punti sui quali ragionare per cambiare in maniera diversa la costituzione uno lo lasciamo perdere perché è già stato accennato ed è l'eliminazione del CNEL gli altri quattro su cui vorrei sentire brevi spiegazioni la riduzione del numero dei deputati dei senatori e delle loro indennità che passerebbero a 470 deputati e 230 senatori se non ricordo male la fiducia del governo espressa solo dalla Camera dei Deputati il miglioramento dell'efficienza del procedimento legislativo con l'istituzione di una commissione paritetica bicamerale e il potenziamento degli istituti di democrazia diretta ma di cui già è stato accennato per cui potremmo soffermarci a questi tre per capirli meglio sul primo punto è semplicissimo a presidere che io non penso che si possa fare una politica a costo zero se facessimo una politica a costo zero avremmo soltanto coloro che hanno i soldi e il tempo nel Parlamento e non mi parebbe un passo avanti però credo che ci sia spazio per ridurre un po' l'indennità dei parlamentari che continuano a essere forse i meglio pagati in Europa e che sia possibile ridurre il numero adesso 470 non sono venuto fuori l'idea era 475 perché erano i collegi non i nominali disegnati nel Mattarellum incidentalmente io sto ancora aspettando che Mattarella dica qualcosa sulla legge di cui è stato relatore perché la deve difendere quella legge e se è cambiato idea deve dirci perché ha cambiato idea credo che anche questo fa parte di un dialogo democratico con il Presidente della Repubblica o suo con noi e se vogliamo davvero risparmiare basta ridurre il numero dei parlamentari e di una certa cifra perché questo è un risparmio strutturale una volta ridotti rimangono lì e quindi il risparmio nel corso degli anti continua a manifestare i suoi effetti sì la fiducia al governo da una sola camera se questo è un problema cioè perché il Senato potrebbe avere una maggioranza diversa e si può dare alla sola camera la fiducia questo è quello che succede questo sì è quello che succede in Europa dappertutto non sono mai entrambe le camere che danno la fiducia ma la dà la camera diciamo più politica il Senato può specializzarsi certo se specializzarsi vuol dire che devono essere scelti anche dei parlamentari secondo determinate caratteristiche questo non lo possiamo imporre ai partiti però possiamo chiedere agli elettori di scegliere poi i loro rappresentanti se riteniamo che il Senato sia luogo della politica europea che abbiano dimostrino nel corso della campagna elettorale di avere quelle competenze nulla osta a un passaggio di questo genere fiducia ad una sola camera e potrebbe precostituire persino l'imitazione l'importazione del voto di sfiducia costruttivo attenzione perché le proposte sono molte e poi bisogna scegliere quelle che sono più semplici qualcuno dice che non c'era nessun bisogno di fare del Senato una camera delle regioni perché in realtà la camera delle regioni in via informale già esiste ed è la conferenza stato-regioni la conferenza stato-regioni incredibilmente è uno dei luoghi di migliore funzionamento per molte buone ragioni la prima è che è ridotta numericamente e quindi le persone si vedono si parlano si conoscono e questo automaticamente crea un clima che è più predisposto a trovare soluzioni adeguate senza andare ad accordi sotto banco ma comunicandosi la seconda è che è fatta da persone che si intendono di queste cose i rappresentanti delle regioni sono coloro che si intendono effettivamente di questo e se il governo centrale vuole procedere in questa direzione può ovviamente nominare il ministro per gli affari regionali qualcuno che a sua volta se ne intende questo semplificherebbe di gran lunga e ridurrebbe di gran lunga i conflitti che possono emergere e sarebbe stata una scelta fattibile fra l'altro questa è la scelta che è stata fatta negli Stati Uniti quando Camera dei rappresentanti e Senato approvano disegni di leggi che sono difformi fra di loro c'è una conferenza interparlamentare nella quale vanno a trovare gli accordi possibili non sempre si trovano però questo fa risparmiare il tempo che secondo i riformatori sarebbe quello che stiamo in realtà sprecando e dovremmo essere in grado invece di essere velocissimi nelle decisioni fatemi fare una piccola chiosa qui perché queste cose che l'Europa ci chiede le riforme non hanno senso io credo anche che poi possiamo dirlo magari che Goldman Sachs vuole queste riforme francamente non ci posso chiedere neanche per un momento che JP Morgan vuole queste riforme che il Wall Street Journal sa di che cosa parla quando dice appoggiamo le riforme di Renzi neanche questo naturalmente avrei anche qualche problema con la Confindustria se per quello che sa che cosa sta chiedendo in materia di riforme istituzionali però non è questo il punto l'Europa quello che vuole dall'Italia è che sia un partner affidabile e credibile questo è quello che vuole e io mi chiedo una volta approvate queste riforme noi diventiamo più affidabili e credibili la mia risposta no non diventiamo più affidabili che credibili e credibili perché avremo dei conflitti a seguire cioè non finisce qui se vincesse adesso da fare attenzione se vincesse il sì non finisce qui perché incominciano tutti i pasticci e le confusioni e naturalmente essendo riforme non condivise ci sarà anche un lascito di cattiverie di sgarbi e così via se vince il no non finisce lì naturalmente perché una parte almeno io mi auguro maggiorità del no è convinta che si possono fare riforme migliori è convinta che alcuni pezzi delle riforme suggerite dal sì possono essere presi i pezzi migliori e approvati in tempi rapidi cioè un disegno di legge che dice articolo 1 il CLEL è abolito può essere approvato nello spazio di poco più di tre mesi le due letture devono tenersi a distanza di tre mesi una lettura diciamo il primo di gennaio adesso il primo di gennaio e l'altra il 2 di gennaio e poi tre mesi dopo primo e 2 di febbraio e si approva l'abolizione del CLEL cioè la battaglia referendaria non finisce il giorno che non so quale sarà esattamente forse si voterà il 24 di dicembre il giorno in cui si avrà l'esito e questo secondo me è brutto cioè le riforme dovrebbero risolvare in maniera tale che quando si ha l'esito anche coloro che hanno perso sono tutto sommato come dire inclini a fare funzionare l'esito e invece qui sarebbe una situazione in cui sia che vinca il sì sia che vinca il no ci saranno intralci sgarbi e altre cose del genere e quindi si apre non una fase di stabilità ma una fase di ulteriore conflittualità un'ultima domanda prima di passare la parola a voi mi riferisco alla personalizzazione del referendum che tutto sommato psicologicamente è quasi molto vicina allo spirito della riforma e che è assolutamente presupponente come tutte le cose presupponenti abbastanza stupida cosa può aver portato una persona a cercare di personalizzare il referendum a tramutarlo in un plebiscito e soprattutto io non credo che se Renzi se ne dovesse andare ci sarebbe un cataclisma mostruoso e drammatico per l'Italia questo è un punto rilevante allora forse non lo sapete ma gli uomini hanno una propensione narcisistica consistente molti di loro hanno un ego che è pronto ad espandersi e quando entrano in politica acquisiscono potere tutto questo si aggiunge e si accresce e Renzi avendo vinto come dice lui le elezioni europee pensava di aver avuto chissà quale successo dagli elettori italiani e dunque che se lui entra in campo gli italiani gli danno questo grande consenso ha pensato che le riforme sono quelle che sono quanto lui le valuti positivamente francamente non lo so però dice ma se dico che sono le mie riforme e che se votano devo notare sì perché votano per me e l'ha detto ripetutamente usando la parola io che spesso i politici italiani che sono un pochino più scaffati evitano se dico io allora mi danno questo grande consenso e quindi è entrato in un vortice che io chiamo plebiscito punto qui fatemi fare prima una digressione per completare la domanda perché secondo l'articolo 138 della Costituzione il referendum non viene mai chiesto dai governi viene chiesto da un quinto dei parlamentari lo dirò così persone informate dei fatti perché erano presenti alla elaborazione e all'approvazione delle riforme da un quinto dei consigli regionali che sono quelli che spesso vengono coinvolti dagli esiti delle riforme in questo caso in maniera abbastanza evidente e da 500.000 elettori in questo paese nonostante tutto ci sono almeno 500.000 persone che fanno attenzione a cosa succede nel Parlamento i costituenti volevano che ci fosse questo controllo possibile ma questo controllo viene esercitato a coloro che non vogliono le riforme e quindi quando sentite l'espressione referendum confermativo quell'aggettivo nella Costituzione italiana non c'è e il referendum se deve avere un aggettivo è oppositivo lo chiedono quelli che non vogliono le riforme perché le riforme sono state già approvate e quindi se nessuno lo chiede il referendum non serve e le riforme procedono nel loro cammino e questo è il punto rilevante quindi attenzione alla manipolazione delle parole fatemi dire un'altra cosa importante che i costituenti volevano questo come ho detto come modalità di controllo dei cittadini sull'operato delle maggioranze parlamentari però non volevano creare una situazione di conflitto tra i cittadini e il Parlamento nella sua interezza e infatti se una riforma costituzionale è approvata da due terzi dei parlamentari non può essere sottoposta a referendum perché secondo i costituenti se poi i cittadini respingessero quella riforma delegittimiterebbero automaticamente il Parlamento e quindi attenzione in un paese come questo dove l'anteparlamentarismo è una volta avevi detto strisciante adesso devo dire flagrante è meglio non incoraggiarlo quindi l'articolo ha una sua serie di elementi anche di equilibrio di comprensione di come devono essere i rapporti tra cittadini consigli regionali in questo caso naturalmente anche Parlamento e così via Renzi ha ecceduto io tendo ad attribuire il merito di aver detto ripetutamente plebiscito che non andava bene la cosa poi è passata però passava in maniera curiosa e alla fine Napolitano dice che forse c'è stato un eccesso di personalizzazione da parte del Presidente del Consiglio io lo trovo straordinario queste cose qua che in inglese si chiamano understatement le trovo straordinarie allora non forse un cavolo il Presidente del Consiglio ha personalizzato deliberatamente il referendum perché pensava che ponendosi in campo e poi ricattando gli elettori dicendo attenzione se mi votate contro io vi creo una crisi di governo subito e voi vi trovate nella voragine perché dopo di me non c'è nessun altro allora l'idea che sì questo non è che un paese che produce statistiche tutte le mattine però l'idea che lui sia l'unico che può vedere il governo mi trova francamente in disaccordo secondo non è lui che fa i governi secondo la Costituzione il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e quindi il Presidente della Repubblica dovrebbe dire che se Renzi si dimette sono affari suoi e che lui cercherà di vedere se c'è una maggioranza in Parlamento se poi Renzi ma qui sto entrando nel Revenimento dei Sogni divento davvero un astrologo se poi Renzi fosse uno statista direbbe come si dice come si dice ipotetico della irrealità se Renzi fosse uno statista direbbe avete bocciato le mie riforme ho due scelte la prima è di dimettermi perché avevo detto che me ne andavo a casa ci sono altre cose da fare nella vita per esempio curare qualche banca e quindi me ne vado a casa oppure ho capito il messaggio e quindi rimango perché ho capito anche che cosa non va bene delle riforme rimango per mettere una pezza a riforme brutte che ho fatto però può anche andarsene a casa ma in questo caso dovrebbe anche dire non impedisco al mio partito di scegliere un altro candidato alla carica di Presidente del Consiglio poi so che qualcuno di voi è vizioso e quindi guarda la televisione e così via io ero in una trasmissione a Rai News che ha proiettato l'intervento di Renzi alla festa di Reggio Emilia credo che fosse giovedì scorso dove ha detto che chi vota contro le riforme fa male naturalmente però che sia chiaro non sono le riforme di Renzi ma sono le riforme di Napolitano peggio che mai sta scaricando quello lo chiamiamo applauso la scena aperta sta scaricando la responsabilità sul Presidente Napolitano che peraltro si merita di essere come dire punzecchiato sul punto perché le appoggia in maniera eccessiva spropositata però anche qui attenzione non è che se lui esce dalla sua personalizzazione può permetterci l'uso di entrare nell'altra personalizzazione allora che sia chiaro queste riforme secondo me sono di Renzi se ci sono anche dei riporti non importa io ho discorso del merito è il merito che è sbagliato e io mi aspetterei dal Presidente della Repubblica e merito che dicesse di tanto in tanto che ci sono delle cose da rivedere perché ci sono e lui lo sa che ci sono delle cose da rivedere e non può trincerarsi l'idea che queste cose si rivedranno una volta che saranno state approvate perché a quel punto è più difficile rivederle da parte del governo ce le ha sottoposte gli italiani le hanno approvate e lui le cambia cioè mi pare una contraddizione quindi se volesse cambiarle dovrebbe cominciare a dire adesso che forse ci sono alcuni elementi che non vanno vedo che dice qualcosa sull'elge dittorale sostanzialmente inadeguato uno scaricabarile dice se il Parlamento vuole se il Parlamento chi? disponi di 340 deputati il Parlamento cos'è di fronte a una maggioranza così cospicua come è la Camera dei Deputati questa storia dell'Italicum diventa bruttina mentre siamo in attesa mi lascio trasportare mentre siamo in attesa del giudizio della Corte Costituzionale allora fatemi fare un passaggio di nuovo personale che è il vantaggio di aver avuto una parte di vita parlamentare di conoscere un po' di gente di essere un professore anzi come noto un professorone perché io conosco molto bene due dei giudici costituzionali uno è Giuliano Amato e l'altro si chiama Augusto Barbera sono entrambi un pochino più grandi di me e a suo tempo vale a dire nel 1984 decisero di fare un manuale di diritto pubblico e a quel punto naturalmente invitarono i loro amici giuristi è chiaro a parte che io sono in grado di fare la voce Presidente della Repubblica credo che sarei anche in grado di scrivere Parlamento però si trovarono con un capitolo che non avevano affidato a nessuno perché non avevano fra i loro colleghi nessuno forse all'altezza qual era quel capitolo? il capitolo sistemi elettorali nel manuale Amato Barbera il capitolo sistemi elettorali lo ha scritto Pasquino e poco prima che i giudici si riuniscano il 4 ottobre Pasquino ricorderà i due giudici che se vogliono valutare la legge elettorale dovrebbero rileggersi il capitolo che io ho scritto per loro e che loro hanno accettato nel manuale che hanno poi ristampato diverse volte fino al 1997 la parola a voi il microfono è lì qui c'è funziona? sì faccio solo una precisazione quando lei dice che i cittadini sono vicini ai comuni quando mi chiedono in Thailandia o a Barcellona o in Scozia mi chiedono tu da dove vieni? dico dal Friuli seconda cosa mi chiedono ma di che nazionalità? io dico Friulano terza cosa mi chiedono di quale stato? io dico italiano tutto qua e non sono solo io che la penso così facciamo un raggruppamento prego la Elia Mioni buonasera in parte mi è stato portato via l'argomento nel senso che è stata una serata piacevolissima soprattutto perché trovare un relatore con l'esperienza del dottor Pasquino e che riesce a interloquire così con la platea è sempre piacevole però io cerco di porre in maniera propositiva la questione che mi sta a cuore in questo momento mi rivolgo agli organizzatori ho già partecipato ho già partecipato ad un altro incontro credo con la dottoressa Orbinati e anche lì mi sembra che la questione del regionalismo o sia trattata male o non sia trattata e quindi io inviterei gli organizzatori a porre in uno dei prossimi incontri credo che ce ne sarà l'occasione perché ancora appunto forse il 24 dicembre si voterà per cui avremo tempo però dobbiamo capirci su questa questione del regionalismo non perché come dire si debba qualche cosa a qualche d'uno ma perché è un pezzo di storia politica di questa regione non della regione istituto ma della regione cittadini e della regione partiti politici sindacati associazioni eccetera ci sono dei motivi per cui questa regione è stata fatta eventualmente ci si deve dire perché non ha più senso averla e non è una questione economica perché ci è stato spiegato con dovizia di argomenti che la Germania federale è un buon paese perché ha una buona politica e buone istituzioni e la Germania è un paese federale e fra i land della Germania ce n'è almeno uno la Saar che credo abbia gli stessi abitanti di questa regione ed è una regione come le altre e fa parte del buon funzionamento di quel paese e quando negli anni passati o anche in questi mesi ci si chiede facendo una battuta il Belgio nove mesi mi sembra senza governo eppure hanno continuato ad andare avanti la Spagna x mesi senza governo il PIL cresce sì ma si dimentica che quelli tutti e due sono paesi federali e quindi evidentemente c'è una distribuzione dei poteri nella società nelle istituzioni nel territorio che consente a un pezzo delle istituzioni di andare in crisi e però l'istituzione la Repubblica nel suo complesso e la società di quei paesi reggono e riescono ad andare avanti perché come dire questi sono anni di crisi un po' per tutti credo in Europa allora ecco io credo lo rifaccio questa proposta agli organizzatori di discutere attorno a questo tema anche perché ho l'impressione che nella costruzione della modifica costituzionale e nel modo in cui viene difeso è come dire alla fine passi uno degli elementi di crisi in questo momento di questa società e di questo paese nel senso che e finisco e chiedo scusa nel senso che abbiamo partiti che non esistono più ectoplasmi abbiamo istituzioni che non riescono a reggere la qualità delle sfide gli stati rispetto alle migrazioni i sistemi pensionistici di sicurezza sociale cioè è tutto un gran casino se ci chiedono di esprimerci attraverso un referendum ci dicono che non è il caso di votare abbiamo istituzioni locali che non hanno più soldi e non riescono a dare servizi almeno cerchiamo di come dire mantenere dei luoghi vicini a noi che abbiano poteri decisionali e soldi per realizzare le loro politiche perché altrimenti credo che sempre di più ci sarà una spinta alla centralizzazione delle decisioni della politica e del futuro io credo che lei abbia ragione a chiedere un dibattito più approfondito su questo naturalmente questo dibattito non può essere fatto solo in una regione questo coinvolge anzitutto i rapporti tra lo Stato e le regioni nel suo insieme e in secondo luogo coinvolge le regioni perché ho l'impressione che dovremmo porre il problema di come accorpare alcune regioni capisco che per i friuli potrebbe essere molto problematico però non c'è dubbio che le regioni se vogliono italiane se vogliono davvero contare parecchio in Europa devono essere forti io ho l'impressione che le regioni attualmente italiane non siano forti abbiano invece fortissimi elementi di debolezza esco dal friuli subito perché non è la zona che conosco meglio ma il Piemonte che pure sembrerebbe essere una regione molto buona diciamo così funziona male ha dei problemi seri di finanziamento di fondi la Liguria è una regione che stiamo tutti sonvezionando cioè bisogna porre il problema in maniera complessiva qua la soluzione delle riforme fatte dal governo è semplicemente di dare più potere al centro che probabilmente toglierà potere alle regioni e che in maniera selettiva interverrà fra l'altro qui selettiva vuole anche dire favorendo coloro che sono politicamente omogenei e forse non favorendo coloro che sono disomogenei però il problema si apre ma io non ho in questo caso nessuna soluzione miracolistica dice il signor quale sarà il tuo giudizio sugli italiani quale sarà il tuo giudizio sugli italiani ma sì io io penso che voi italiani avete la capacità di sorprendermi spesso quindi credo che voterete no no io non sono sono dell'idea che l'elettore non necessariamente ha sempre ragione cioè l'elettore può legittimamente sbagliare gli si può dire che ha sbagliato però bisogna rispettare l'esito delle elezioni cioè io penso che ci siano molti italiani che probabilmente voteranno sì con delle votazioni sbagliate e bisognerebbe cercare di convincerli che con quelle motivazioni loro dovevano votare in un altro modo però non sono qui per giudicare gli italiani cioè continuo a pensare che queste assemblee e in generale i dibattiti che ci sono nel paese dovrebbero servire a illuminare e quindi a fare migliorare un po' la cultura politica degli anni che come sappiamo è molto limitata però dirò semplicemente che avrò un po' di senso di delusione però poi mi ricorderò che quello che diceva Max Weber che la dote di uno di un politico è quello di dire quando perde non importa ricominciamo il voto in Inghilterra di due mesi fa il Brexit allora ci sono tutti perditi di essere usciti da l'euro io sono sostanzialmente d'accordo con gli amici che mi hanno preceduto a riguardo della specialità di questa regione che lei deve sapere non è legata al fatto che vogliamo un'amministrazione diciamo dal punto di vista economico puntuale e seria come pensa la nostra amata presidente bensì per il fatto che noi siamo una regione composta da più etnie da più entità siamo friulani italiani veneti sloveni tedeschi ed è da questo che nasce il nostro desiderio di identità e di specialità non certo dal fatto di essere più bravi e di pagare le tasse o solo da quello ma mi permetta di non essere d'accordo con lei sul suo assioma iniziale sul fatto che qui la costituzione ha permesso di mantenere la democrazia io non ne sono convinto questo paese non sta vivendo in una reale democrazia ma è una democrazia fortemente penalizzata da una reale mancanza di dibattito di interlocuzione e di partecipazione pensare che noi al referendum arriviamo credendo che la rivoluzione francese è scoppiata con la presa della Bastiglia o che la redenzione dell'Italia è avvenuta con la firma della capitolazione e non per esempio con la resistenza nelle montagne è sbagliato noi siamo in realtà in una china da molto tempo e non tenerne conto non spiega nemmeno il fatto che non siamo raggiunti non siamo riusciti a raggiungere le 500.000 firme mentre il sì è riuscito a raggiungerlo e sa come è riuscito le faccio un esempio ho tutta la documentazione di questo la Col di Retti anche in questa regione ha comandato ai suoi dipendenti a tutti quelli che aspettavano di risolvere le pratiche in corso li ha comandati ad andare in fila indiana durante le ore di lavoro a firmare per il sì e questo ha consentito al sì di raggiungere grazie ai potentati grazie alla corruptela politica eccetera e grazie alla non democrazia in cui stiamo vivendo noi per esprimere la giustizia noi non siamo in grado di farlo perché la giustizia è cara e io non vedo un deputato venire in mezzo a noi da anni vengono il giorno prima delle elezioni questa non è la democrazia non è la democrazia per la quale mio padre ha combattuto questa democrazia anche qui non solo in centro nel centro e nel governo italiano e le potrei portare diecimila esempi che ci toccano e ci riguardano pesantemente ma qui stesso abbiamo sottoproposto quattro referendum che cercavano di intervenire sull'architettura organizzativa della nostra regione sulla su fatti sostanziali come la gestione dell'acqua delle risorse idriche ci è stato negato da questo consiglio regionale che meriterebbe la scomunica per quello che sta facendo e non vantarsi nelle sedi nelle sedi anche ecclesiali di aver di sostenere l'ambiente o di sostenere il paesaggio eccetera eccetera stiamo vivendo una decadenza Pasquino una decadenza che mi fa temere anche sull'esito del referendum purtroppo grazie ci speriamo di no qualcosa dico su questo aspetti a dare la parola guardi essi possono avere dei malumori e io ne ho spesso vedo che il suo è più profondo del mio però le suggerirei non entro in tutti i particolari ma le suggerirei di pensare che ci sono dei regimi che sono democratici che funzionano male ma sono democratici però funzionano male l'Italia è uno di quei regimi poi ci sono regimi democratici che funzionano bene regimi che funzionano meglio il nostro funziona male però è democratico e quindi le garantisce la possibilità di cercare di cambiare alcune cose e qualche volta riusciamo a cambiare alcune cose ci sono dei momenti in cui gli sforzi collettivi ottengono successi altri in cui no se vince il no questo è il momento in cui avremo ottenuto un successo e riusciremo a tenere aperta la strada per miglioramenti costituzionale se vince il sì invece per un po' si chiude naturalmente però come dire se vince il sì vuol dire che è riuscito a convincere un numero di elettori sufficienti a essere di più di quelli del no per quello che riguarda la raccolta delle firme c'è un problema certamente di coartazione da parte di alcune associazioni la col di rette è una ho l'impressione che la CIS l'abbia fatto la sua parte seppur in maniera variegata chi non ha fatto la sua parte è stata la CGL ci ha messo troppo tempo cioè solo adesso è ancora in maniera ancora in maniera altalenante sta dicendo che sostiene il no ma se la CGL avesse dato una mano alla raccolta delle firme le 500.000 firme si sarebbero si sarebbero raccolte e capisco però che i sindacati poi devono fare i conti col governo però ci sono dei momenti in cui bisogna assumersi le responsabilità e fare il lavoro nel quale si crede però guardi siamo in una democrazia che non funziona benissimo ma è una democrazia e ci consente gli spazi del più vario genere di organizzarci di bisticciare di fare degli interventi di volta in volta e così via di votare contro il Consiglio regionale di chiedere al parlamentare se riuscite a sapere chi è stato perché chi è il vostro parlamentare che con il sistema elettorale con quello avete votato non è così facile di costringere a venire a parlare con voi cioè ci sono tutta una serie di attività che possono essere condotte Allora professore buonasera io volevo chiederle allora partendo dal presupposto che i padri costituenti hanno fatto questa legge costituzionale come possiamo permettere noi cittadini di accettare che dei corrotti condannati eccetera facciano una nuova legge costituzionale in secondo luogo non so se sia vero o meno ma il nostro caro Presidente del Consiglio ha un sacco di soldi in Lussemburgo e nei paradisi fiscali tutto quello che dovevo dire è questo e il resto è solo da pensare Senta ai paradisi fiscali provvedono i preti che hanno una grande conoscenza del paradiso e quindi sarà il caso che la amplino l'articolino no signora non faccia questo si chiamerebbe in inglese si chiamerebbe character assassination l'attacco alla persona non lo faccia il Presidente del Consiglio è quello che è ma non è nel peggiore che abbiamo avuto nell'ultimo che avremo di quel genere lì però il punto è questo bene o male quei parlamentari sono stati eletti certo ci sono anche dei corrotti io sono critico di molti di loro però se le devo dire fino in fondo la verità di questi 945 parlamentari direi che il 75% sono persone decenti che fanno il possibile per riuscire per riuscire a combinare i loro interessi che sono personali di carriera cioè un parlamentare vuole essere rieletto ed è anche comprensibile cercando di capire anche che cosa vogliono gli elettori e quindi qualche volta di trovare le modalità di fare approvare delle leggi che pensano che siano utili agli elettori questo secondo me è lo stato della situazione poi il 25% spesso in una situazione di qualche equilibrio può contare di più perché interviene a bloccare una decisione perché utilizza per esempio tutte le procedure regolamentari sulle quali sarebbe stato il caso che qualcuno dicesse qualcosa in Parlamento però in generale di nuovo è lo stesso discorso per la democrazia abbiamo un Parlamento che qualche volta funziona male ma nel suo insieme i parlamentari italiani non sono così corrotti come si può pensare sono persone decenti qualche volta inadeguate perché c'è anche quello che è successo in questo paese a un certo punto è che sono scomparsi i partiti che in qualche modo insegnavano ai loro parlamentari o a coloro che dovevano diventare parlamentari e questo non c'è più e arrivano adesso io non voglio polemizzare più di tanto con le 5 stelle che qualche volta sono divertenti qualche volta sono irritanti e che comunque rappresentano il 25% degli elettori di questo paese ma quando sono entrati in Parlamento rumorosamente baldanzosamente raccontandoci che loro non erano né deputati né senatori ma cittadini voleva dire che non avevano capito nulla perché una volta che qualcuno è eletto in Parlamento ha un ruolo ha una carica ha dei compiti e non è un cittadino è un deputato o un senatore e i fatti sono che hanno lentamente imparato che se vogliono contare devono sapere come si scrive un emendamento come si chiede una votazione devono ascoltare che cosa viene fuori anche dal loro elettorato che non basta che utilizzino la rete ma hanno qualche necessità di andare a parlare con persone di Battista non so se sta girando in scooter come? le piazze sono qualche volta piene qualche volta no io vedo piazze molto piene quando c'è Bruce Springsteen per esempio buonasera prima di tutto volevo dire io sono nato cresciuto a Udine però se mi chiedono dove vengo io dico vengo dall'Europa io sono europeo tanto per io ho vissuto quest'anno a Edimburgo in Scozia e quindi ho vissuto in parte sulla mia pelle quello che è stato il referendum il presunto referendum su la permanenza o l'uscita dall'Unione Europea no presunto no però vero non presunto sì diciamo che questo è il punto su cui vorrei fare la domanda ok durante la campagna chiamiamola elettorale ci sono stati molti punti che sono stati sollevati in Gran Bretagna che avevano limitatamente a che fare con l'Unione Europea e che invece avevano molto a che fare con sentimenti di pancia o con altri elementi che non avevano a che fare necessariamente con la domanda che gli elettori avevano di fronte e con questo vorrei riallacciarmi al referendum che abbiamo noi di fronte lei parlava anche della legge elettorale e ha detto fin dall'inizio giustamente la legge elettorale non fa parte della riforma costituzionale e volevo pertanto chiederle un parere secondo lei noi dobbiamo considerare anche la legge elettorale quando andiamo a votare oppure no perché io di per me avrei quella di dire io leggo quello che c'è scritto sulla scheda elettorale e sulla base di quello mi pongo la domanda se la riforma elettorale scusate la riforma costituzionale di per sé sia buona o no indipendentemente dal resto sul quale noi solo indirettamente forse possiamo esprimere la nostra opinione volevo sapere qual era la sua grazie certo lei va a votare su un quesito solo che comprende quattro revisioni costituzionali e quindi su quelli deve essere sufficientemente informato poi però lei è vissuto in questo paese è andato in giro ha ascoltato la radio visto la televisione letto qualche giornale probabilmente avrà il suo telefonino ipod o ipad non so dove sfila chissà quanti giornali e sa che se un ramo del Parlamento non verrà più eletto e l'altro ramo del Parlamento avrà maggiori poteri questo dipende anche dalla legge elettorale non può fare a meno di pensare che c'è un effetto successivo della legge elettorale cioè che ci sarà maggiore concentrazione di potere politico nella Camera dei Deputati che sarà l'unica Camera eletta veramente dagli elettori che per di più quel potere politico dipenderà da un premio in seggi garantito da un meccanismo anche al partito come ho detto adesso mediamente che avrà 26 28 30% dei voti e quindi è un partito gonfiato di seggi grazie al meccanismo della legge elettorale questo lei deve metterlo in conto e quindi tutto questo la spinge a valutare complessivamente quello che viene fuori se lei vota no o se lei vota sì e credo che la buona parte degli italiani lo sappiano vedo soprattutto e mi conforta se posso dire così che sono coloro che suggeriscono di votare sì che dicono non tenete conto della legge elettorale e allora mi sospettisco e reagisco dicendo no bisogna tenerne conto perché se ho ragione io e il problema di questo paese è la rappresentanza politica non posso fare a meno di tenere conto della legge elettorale e del modo con quale quella legge interagisce con le leggi di revisione costituzionale scusi buongiorno volevo dire io ho un gruppo di amici che erano d'accordo nell'esprimese con il no però adesso sento man mano qualcuno che comincia a pensare come diceva prima alla catastrofe se vince il no sarà una catastrofe secondo alcuni cosa dovrò rispondere domani quando ne parlerò per quello che riguarda il governo quello che l'ho detto io questo paese ha una costituzione che dice il capo del governo si dimette va dal presidente della repubblica il quale può dirgli no rimani per gli affari correnti no ti ridò il mandato Renzi bis certo se conosciamo questa è la storia della vecchia repubblica Renzi bis attenzione perché molto spesso i secondi governi che hanno guidati da un primo ministro non erano necessariamente peggiori dei primi no sono d'accordo accetto le tue dimissioni e adesso provo a fare un'altra maggioranza io presidente della repubblica e tu se sei un uomo responsabile mi consentirai di farla e dirai ai tuoi parlamentari che non dobbiamo creare instabilità governativa soprattutto in questa fase che fra l'altro coinciderà grossomodo con l'approvazione della legge di stabilità questo sì gli europei non vogliono vedere non vogliono vedere l'instabilità per cui si trovano con un presidente del consiglio che non sanno se rimane oppure no e quindi la crisi deve essere risolta rapidamente ma la responsabilità in questo caso è tutta del presidente del consiglio questo allarmismo per cui se vince se vince il no succedono dei disastri cioè qualcuno ha scherzato io se siamo qui io non so quanto posso scherzare anche con voi non siate troppo sussieguosi ma se vince il no non è vero che l'udinese va in serie B sorvolo sul grande apprezzamento per il professor Pasquino e chiedo faccio due semplici domande una è sulle sulle nuove riforme e sulle proposte che anche lei prima ha elencato chiedo si deve nuovamente passare attraverso il Parlamento o sarebbe preferibile passare attraverso una costituente come tante volte si dice una seconda breve osservazione è sulla sulla legge per l'elezione dei sindaci anch'io ci credevo molto ha funzionato però l'ultima tornata elettorale mi ha messo qualche dubbio il gioco delle tre carte è avvenuto da più parti non so se appunto anche quella abbia qualche debolezza però non è la legge non è la legge è il come dire il gioco partitico però lei come può negare a un suo concittadino il quale proprio non lo vuole vedere il sindaco del PD e al ballottaggio si trova tra il candidato del PD e il candidato delle 5 stelle e lui le risponderà che fra i due lui preferisce le 5 stelle quello è quello che gli offre il convento e lei deve garantire questa libertà di scelta semmai poi dovrebbe chiedersi perché il PD presenta alcuni dei candidati che al ballottaggio perdono contro il candidato delle 5 stelle le faccio l'esempio che conosco meglio quando lei ha detto sono un europeo invece di dire sono un friulano io ero in un'assemblea di studenti di varie nazionalità nella fattispecie di 32 nazionalità e quando facevano le domande dovevano identificarsi e a un certo punto si vengo da l'Alhavama ok vengo da Berlino ok e si è alzato uno che io non conoscevo e ha detto sono un europeo nato a Torino il passaggio le mancava lei doveva dirmi sono un europeo nato a quel passaggio cruciale però piglio Torino perché io sono un europeo nato a Torino e quindi conosco bene la città e i miei amici mi danno le informazioni a Torino la situazione era di questo genere cioè Fassino era logoro cioè ha fatto una campagna elettorale triste ripetitiva sì lo so che è triste in partenza ripetitiva noiosa cioè la città aveva bisogno di un cambiamento i sindaci di Torino dal 1994 sono tutti stati di centro-sinistra Torino è migliorato in maniera straordinaria però il problema è che si vedeva proprio che il sindaco gli piaceva rimanere sindaco ma che lo volesse davvero fare e questo ha una percentuale di lettori che ha detto no basta proviamo con questa giovane signora la quale tra l'altro ha un curriculum professionale di un certo rilievo e infatti questo ha evitato praticamente tutti gli errori fatti dalla sindaca Raggi un altro mondo certo un altro contesto Torino è molto più paese di Roma però al ballottaggio inevitabilmente lei voterà il meno peggio qui potrei anche chiedere che cosa votava quando eravamo prima del 1994 perché noi sappiamo che una parte considerevole di italiani votava democrazia cristiana ma non perché voleva i democraziani ma perché non voleva i comunisti e molto semplicemente dice chi è che mi protegge dai comunisti i democraziani e quindi non era la prima scelta ma semplicemente era la scelta per evitare quella roba lì e qualcuno votava comunista perché proprio non li sopporto i democraziani e quindi voto i comunisti li tengo lì perché magari sono un'opposizione efficace decente in una certa misura lo sono anche state a certo potevano fare molto di meglio questo lo dico anche per Napolitano la costituente ah la costituente ha ragione sì allora una cosa so che i professori devono sempre rispondere alle domande non possono dire non so guardi la costituente che ha fatto la costituzione doveva farla cioè non aveva alternativa doveva fare la costituzione anche qui di nuovo sento raccontare delle storie strane ma ha chiesto due volte più tempo cioè non è che è stata un'operazione facilissima non è neanche vero quello che sento dire soprattutto dal ministro Boschi che la costituzione è un'operazione catto comunista certo c'erano i cattolici certo c'erano i comunisti in assemblea costituente però c'erano anche i liberali Luigi Eonardi non era una persona marginale in quell'assemblea costituente c'erano gli azionisti Calamandria una persona importante in assemblea costituente c'erano i socialisti Leglio Basso scrive parte dei due articoli importanti l'articolo 3 sull'uguaglianza e l'articolo 49 che viene detto sui partiti poi posso spiegare meglio e quindi non è un'operazione catto comunista ma non è neanche un'operazione che di nuovo uso questo termine davvero con un po' di ribrezzo non c'è nessun inciucio si vota in assemblea costituente si vota si vince e si perde poi certo l'ultimo voto soltanto 56 se non mi sbaglio su poco più di 460 che votano votano contro ma ci sono vittorie sconfitte in assemblea costituente qualche volta come facciamo noi quando siamo in qualche consenso so che sto per perdere basta non chiedo neanche il voto ho perso molto semplicemente in qualche caso non c'è voto per esempio qui faccio un esempio che cosa voglio dire esattamente con metodo democratico riferito alla competizione fra i partiti non è chiaro però quando è stato inserito quello c'era un dibattito un dibattito durissimo e a quel punto qualcuno ha deciso che non avrebbe chiesto il voto su quello lo lasciamo passare lo hanno chiesto la destra che voleva utilizzare il commetto democratico contro il partito comunista e a quel punto gli altri hanno risposto dicendo che lo votavano così com'era ma con un'interpretazione diversa da quella della destra come tutti sapete perché questo è per sempre troppo facile sull'articolo 7 ci fu un voto naturalmente e i socialisti votarono per non avere l'articolo 7 i rapporti tra Stato e Chiesa e i comunisti invece in maniera tattica poi anche su questo però si può rilasciare e decidono che votare votarono l'articolo 7 e così via ci sono diversi articoli anche importanti sui quali ci sono dei voti qualcuno ha vinto qualcuno ha perso si può fare l'assemblea costituzionale oggi con questi italiani non lo so ma c'è urgente la mia prima reazione è questa fare l'assemblea costituente vuol dire delegittimare la costituzione esistente dite quella non va più e adesso vogliamo che ci sia un'assemblea costituente che ne fa una nuova io credo che non dobbiamo delegittimare l'assemblea costituente continuo a pensare che le riforme si le deve fare il Parlamento poi so che ci sono i corrotti in Parlamento ma ci sono anche quelli che no so che ci sono gli ignoranti ma ci sono anche quelli che troppi in assoluto troppi corrotti troppi ignoranti no 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 non devo fare la domanda non devo fare la domanda capite cioè non voglio delegittimare e voglio che ci sia un procedimento legislativo in qualche modo naturale ma comunque scritto nell'articolo 138 qualche furbone a un certo punto aveva detto le riforme costituzionali dovrebbero essere fatte soltanto se si raggiunge la maggioranza dei due terzi questo sarebbe un errore grave però lei non farebbe più nulla perché la maggioranza dei due terzi è difficilissima da raggiungere ma soprattutto se lei volesse la maggioranza dei due terzi mi renderebbe sempre impossibile di entrare con un voto contrario e quindi di respingere le riforme fatte la mia posizione invece è anche se le riforme hanno giungesso dei due terzi i cittadini hanno il diritto di chiedere un referendum cioè comunque qualsiasi riforma fatta dal Parlamento può essere sottoposta al vaglio degli elettori però in generale non sono d'accordo sull'assemblea costituzionale vedo lo dirò proprio in maniera brutale al di là di quelli che la signora non vorrebbe vedere mai gli ignoranti e i corrotti vedo un'assemblea costituzionale fatta da un certo numero di persone che vanno lì a scopi assolutamente pubblicitari perché sarebbe sotto i fari della televisione di chiunque e quindi sarebbe un'assemblea costituente a mo' di pollaio con un numero impressionante di galli ecco no preferisco di no scusi vorrei soltanto ultima no la signorina ripetutamente ha cercato di avere la domanda poi portate il microfono lì dopo questa la piglio anch'io avevo chiesto sì sì certo ecco vorrei chiederle lei ha parlato nel caso di vittoria del no ha parlato di possibile e molto semplice fattibile abolizione del CNEL comunque vorrei chiederle pensa che ci siano altre riforme che si possono fare in tempi brevi e importanti urgenti nel caso di vittoria del no seconda domanda mi pare lei ha un po' chiuso mi sembra in modo un po' affrettato l'appoggio che la confindustria il fondo monetario internazionale le agenzie di rating in particolare JP Morgan Marchionne hanno dato al sì dicendo mi pare di aver capito dalla sua relazione che tutti chiedono che l'Italia sia un partner più credibile ed efficiente lei crede veramente che questa sia la domanda che fanno all'Italia o non anche una scelta politica di indirizzo politico un pochino più chiaro dato anche delle comunicazioni che ha fatto l'agenzia di reti JP Morgan alcuni anni fa su alcune costituzioni dell'Europa del Mediterraneo ha fatto una domanda molto difficile allora io non nego ovviamente a nessuno il diritto di valutare che cosa succede in questo paese soprattutto nel momento in cui si tratta di problemi che possono avere un impatto anche sulla scena europea è giusto che gli europei siano preoccupati da come è governata l'Italia perché se l'Italia entra in una fase di effervescenza negativa questo ha delle ripercussioni su una situazione europea che come vediamo già non è particolarmente brillante quello che sostengo è che non ne sanno abbastanza e cioè che questi uffici studi dicono delle cose curiose che non hanno una conoscenza del funzionamento del sistema politico italiano e quindi esagerano i rischi e qualche volta anche esagerano invece le eventuali conseguenze positive sostengo inoltre che il problema dei governi italiani dei politici italiani è la loro credibilità personale non solo istituzionale e gli europei non hanno ancora digerito due cose non marginali una non so se lei se lo ricorda ma c'era un presidente della commissione italiana che si chiamava Franco Maria Malfatti che decide di lasciare la presidenza della commissione uno dei luoghi più importanti e forse più interessanti che ci sia nella politica oggi per tornare in Italia e fare il ministro e questo agli europei non è andato giù dice ma come sottovalutate voi italiani così tanto l'Europa che prevedete fare il ministro a Roma che non il presidente della commissione europea a Bruxelles e secondo è lo devo dire anche se so che qui deve essere un'assemblea con una propensione prodiano uvilista che Prodi non è stato un buon presidente della commissione cioè che troppo loro lo hanno visto impegnato in qualche cosa che era il tornare in Italia come poi ha fatto per fare politica tornare fare politica in Italia quindi che dava poco delle sue energie mentali del suo tempo ad una vera politica europea questo non ci ha squalificato ma ci ha reso meno credibili agli occhi degli europei la credibilità si raggiunge come dire dicendo questo è il mio paese l'Europa qui opero perché se opero bene qui ci sono effetti positivi anche sull'Italia questo non è avvenuto fatemi fare la coda qui perché invece la Federica Mogherini è una donna credibile capace che dovrebbe essere sostenuta dal governo italiano mentre vedo che Renzi ha preso le distanze compiendo un errore abbastanza grave fra l'altro la Mogherini è anche la vice presidente della commissione sì però dietro tutto questo un elemento di debolezza nel mio ragionamento c'è cioè se le grandi banche da fare gli investimenti dicono che il no creerebbe dei problemi a loro e ai loro clienti e così via questo è in effetti qualche cosa che deve essere contrastato perché se loro danno questo messaggio è chiaro che gli investitori internazionali faranno attenzione a cosa fanno nei prossimi due o tre mesi e così via deve essere contrastato per l'appunto spiegandogli guardate anche se vince il no il paese tiene e abbiamo anche due tre quattro presidente del consiglio di riserva e vi garantiamo che faremo il possibile per cercare di essere interlocutori credibili a livello europeo lo sento c'è un elemento di debolezza però forse si può contrastare meglio dicendo fateci vedere su quale base avete espresso il vostro il vostro parere con la confiduzione non lo posso dire perché dice che hanno fatto gli algoritmi e io con gli algoritmi sono perso però hanno detto delle stupidaggini colossali ultima ecco buonasera io preventivamente sono una persona che magari pensa male magari le porrò una domanda così un po' però mi è venuto spesso il dubbio che al signor Renzi questo referendum serva e si proponga così caldamente per essere legittimato perché non è passato attraverso il voto popolare può essere una deduzione corretta o sono io che penso male ecco buonasera grazie guardi però io riconosco anche a lei il diritto di pensare male non è mica no non è così perché questo dovrebbe essere invece noto a tutti un capo del governo nelle democrazie parlamentari ha la sua legittimazione dal voto di fiducia del Parlamento e Renzi il voto di fiducia l'ha avuto all'inaugurazione del suo governo tutte le volte che l'ha chiesta l'ha ottenuta i renziani ricorderanno anche che spesso i voti di fiducia sono saliti infatti sono arrivati 12, 16, 18 verdignani quindi qualche volta salgono anche questi voti quindi no il referendum l'ha chiesto perché potrebbe passare pensa che passerebbe alla storia come quello che è riuscito a riformare la costituzione se l'ha visto nell'ultimo spezzone televisivo nel quale attaccava durissimamente D'Alema D'Alema non ce l'ha fatta invece Renzi ce la farà e allora tutti più felici e contenti e così via però D'Alema non ce l'ha fatta anche per colpa sua e non è che D'Alema diciamo che è bravo solo perché è sarcastico perché attacca Renzi e così via perché conosce la lingua molto meglio di Renzi che si impappina ha qualche problema con i congiuntivi ha un inglese molto approssimativo no D'Alema ha fatto grandi errori però non è che Renzi è meglio come riformatore D'Alema cercava di tenere insieme qualche cosa che non doveva tenere insieme Renzi ha avuto un copro di fortuna perché i berlusconiani si sono spappolati però le sue riforme sono brutte e questo alla fine il giudizio dopo sarà sulle riforme però lui si gioca come dire quel piccolo io in questi casi sono molto cattivo si gioca due righe in una nota a piedipagina della storia d'Italia dal 1900 al 2016 allora concludiamo l'incontro si conclude certamente ringraziando il professor Pasquino per averci istruiti in tanti passaggi importanti che aspettavamo di ascoltare di ascoltare